Ciao Artù! Ciao Patato! Stavi facendo la nonna? Ciao Coccolone! Cosa c'è? Tu ti senti solo, vuoi sempre coccole? Ma io non posso stare tutto il giorno qui ad accarezzare te, lo sai? Eh no, amore? Devo pensare a tutti gli altri micetti. Ma sai che sei diventato muscoloso? Sei tutto muscoloso, muscoloso. Da come eri brutto, spilacchiato, quando ti abbiamo trovato, Artù è stato trovato sulla varesina con una ferita alla coda. Ovviamente non era di nessuno. Un gatto buono, socievole, come fa a non essere di nessuno? E' un patato bellissimo lui, con i suoi occhi azzurri. Da patatino? Eh sì, non bisogna smettere di accarezzarlo. Amore!